La Camera approva, poniamo in votazione il remendamento 2.01 Gianluca Pini, votazione aperta. Pellegrino. Petraroli. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo agli emendamenti relativi all'articolo 3. Relatore. Contrario. Governo, sospetto o conforme? Conforme. Perfetto. Passiamo al 3.1 Gianluca Pini, parere del contrario Commissione Governo, contrario Commissione Bilancio, votazione aperta. Montroni. Gigli Montroni. Mazzoli. Mazzoli. Agostini. Gribaudo. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 3.2 Gianluca Pini, contrario Commissione Governo, contrario Commissione Bilancio, votazione aperta.